Ciao a tutti ragazzi eccoci qua per la seconda parte del nostro video di sbustamento della nuova espansione spada e scudo altra volta abbiamo visto le prime 18 bustine adesso ci guardiamo le ultime 18 e vediamo un pochino se riusciamo a replicare quanto di voi ho trovato l'altra volta. Allora questo lo buttiamo di lì così non ci confondiamo. Allora vediamo qui l'energia BC Rotom, amuleto grande, Seeking, Sheldr, Krogan, Silicobri, Minicino, Vulpix, Golden Reve, bellissima, bellissima zia mazenta, zia mazenta gold, 212-202, iniziamo subito col botto bellissima questa carta, davvero davvero bello, accidenti, bell'inizio, sono molto molto soddisfatto sempre così dovrebbe essere. Allora bene dopo un bel inizio speriamo solo di non afflosciarci e comunque continuiamo velocemente a vedere che cosa troviamo in questo box. Certo un polipo con il guantone, prove, Astley, poi Salandi, Traverse e Rapidash, che secondo me sono lontani parenti dei miniponi ma comunque è un'opinione personalissima. ok, proseguiamo, Hitmonlee, Salazde, tutti in posa sono, però sembra tipo Tonima Nero negli anni 70, Motut, Scorbanni, P, ah P che c'è, beh P che c'è un po' da mancare, cos'è sta cosa? Sinistea, quindi abbiamo una tazza di tè che è un po' come una specie di... vabbè, un sorvolo, Energia Valore Reverse e Cincino. Ok, veniamo qua, qui abbiamo Energia, poi abbiamo Blocco Amici, Kingler, Raidon, Onita, Mincino, Soble, questo affare qui da questi nomi assurdo, Baltoi, vedo che molti Pokémon sono ripetuti in pose diverse... oh, Regirox V, Regirox V, che è Regirox, Regirox V, guardate qua, bella questa carta, Regirox è sempre un bel Pokémon, ok, vediamo cosa ce l'abbiamo qua, ho visto quello che abbiamo trovato l'altra volta, temo che qua, salvo colpi... colpi rari, forse non troveremo praticamente più niente però... allora qui c'è uno Scorupi con un Diglett sullo sfondo che lo osserva... ah, ora Anguru, Reverse, Cloyster... dicevo nell'altro video se l'avete visto abbiamo trovato ben due fuori serie... secondo Zama Zenta sono addirittura 3... quindi credo che, insomma, sarebbe davvero un ottimo pull trovare ancora qualcosa... speriamo, vediamo un po'... l'appello di rompente, l'Hantur... e si prosegue... abbiamo l'energia di Batman... palloncino, pokebimbo... Atmore... bello Atmore... il... Globo... Pusse il... un polipo con i guantoni... i Gastly... un Rochidi... questo coso qua rotolato... quest'altro con le sciscarpe... un Mantine... Reverse... Toxic Rock... bello questo... questo Toxic Olo... quel veleno che gli esce qua da... da questo artiglio... vediamo un po' qua cosa troviamo... allora... la nostra energia... vabbè... Corbis qua... Megabull... Pozione... Ferro Seed... Crebbi... Zizzago... Gossifleur... Silicobra... Musharna... Reverse... e... Moosdale... io vado veloce perché tanto... quello che conto come dico sempre sono... quello che troviamo... dentro le bustine... quello che interessa... aspetta che trova... ah... Velox... Velox Ball... non la... non la... la Ghost... non è la Ghost... la Gold... che è molto ambita... a quanto pare... vediamo un po' qui... Zizzagoom... ah... e abbiamo un Keldeo... Keldeo V... molto bene... e si prosegue... velocemente... adesso... abbiamo una... B-Sharp... Chiappa Pokémon... Mount... Bella... Chutli... 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 questo qui... insopportabile... Rayorn... Clobopus... abbiamo una Roseglia... poi c'è Drizzly... Reverse... Oranguro... Holo... qua c'è... sembra che... non so se si riesce a notare... sembra che... ah... non sembra... il... 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 questo dice... la parte orografica scende... anche sulla parte scritta... come potete vedere... eh... forte... ok... qui cosa abbiamo... vediamo un po'... va beh... energia... Raidon... amuleto grande... Twaki... Rhyhorn... Rockidi... Krabby... Grokey... Mulbrai... Aractus Reverse... Raichu... si... Allora... qui invece cosa abbiamo... oltre la nostra solita energia... vediamo un po' cosa c'è di bello qui... Semicobra... Vincino... Ulpix... Munna... Roseglia... Clobopus Reverse... e Snorlax... ok... allora... qui... così... così... e così... allora... un po'... se qui... lo troviamo ancora... ma sarebbe veramente chiedere... lo dico con umiltà... sarebbe chiedere... quasi troppo... forse... uh... Ninthels Reverse... bello questo... Ninthels... peperio... rolo... sarebbe forse... chiaramente... essere troppo sculati... se trovassi ancora qualcosa... anche se chiaramente... non mi farebbe schifo... eh... questo... eh... credo sia abbastanza chiaro... allora... vediamo cosa abbiamo qua... come ho detto... vedo tanti Pokémon ripetuti... in più pose... io questo non lo capisco... adesso sinceramente... un Pokémon... è la tazza di tè... speriamo che non ci... rischiando il fondo del barillo... non si va... a prendere i... i vari... hm... elettrodomestici... o cose varie... meglio o no... si rischia... una caduta nel ridicolo... a mio parere... allora... questo mi fa... sarebbe curioso... capire il perché... di questa cosa... di questo spavento improvviso... poi... l'energia... clopopus... andiamo... golding... l'oseglia... dust... i paniard... amo normale... reverse... e... morpeco... così... a caso... ultime tre bustine... ultime tre bustine... ok... allora... king... riperpozione... baccacedro... golly... giglet... scoruppi... utut... scorbunni... dreadnought... reverse... tortunetum... vediamo cosa abbiamo qua... allora... l'energia di Batman... Weki... Fortuno... Odub... Wool... Munna... Moseglia... Cuitle... 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 bah... ooooh... attenzione... un'altra full art... la full art di Torquall... guardate che bella... bellissima... ok... ultimo pacchetto... ultimissimo pacchetto... energie... energie aurora... ferrato... martello di rompente... rocchi di... Sizzlipide... Snom... Mewile... Cosiflure... la reverse... detto il centro pokemon... Wimsicott... che si sta pensando di buttarsi nella finestra... allora ragazzi... devo dire che... vi faccio una piccola... piccolo riassunto... nel nostro box abbiamo trovato... qui... riserva accademica... Morpeco... Lapras... Zamazenta... veramente bene... guardate qua... che pull... per una volta un po' di fortuna anche a me... e... niente... io vi ringrazio per avermi guardato... ci vediamo... spero presto... e... spero molto prima del 7... di maggio... 7 maggio... che esce la nuova espansione... e... vi saluto... e... niente... ciao... grazie... 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 grazie...